Un forte boato e poi del fumo. È la testimonianza ricorrente dei residenti di Via Canonici nella zona di San Rufillo a Bologna, nella cantina di una palazzina al civico 13 infatti. C'è stata una forte esplosione che ha provocato una vittima a perdere la vita a un uomo di 59 anni, Fiorenzo Romagnoli, che risiedeva nell'abitazione da circa un anno. Un incidente causato probabilmente da un'imprudenza dello stesso Romagnoli. L'uomo infatti era un collezionista di materiale bellico, tanto che i carabinieri sul posto assieme ai vigili del fuoco di Bologna e Pianoro hanno trovato un vero arsenale di residuati bellici e armi da collezione. Nel locale dove c'è stata l'esplosione c'erano diversi nastri con munizioni da mitragliatrice calibro 7.62 nato, dunque successivi alla seconda guerra mondiale. Inoltre sono stati trovati i resti di quello che probabilmente era un metal detector. L'ipotesi prevalente degli investigatori riguardo l'incidente è che il commerciante stesse spolettando un ordigno che lui stesso aveva trovato Nell'appartamento c'erano inoltre pugnali, baionette e persino cinque bombe a mano tipo ananas, alcune con ancora la spoletta e dunque potenzialmente esplosive. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'aria, staccando temporaneamente gas ed elettricità, ma l'edificio di tre piani è stato dichiarato agibile. La deflagrazione è stata violenta e ha probabilmente ucciso l'uomo all'istante, oltre a far crollare un muro divisorio fra le cantine. I danni avrebbero potuto essere anche più gravi se nel locale non ci fossero state due porte aperte che hanno dato sfogo allo spostamento d'aria provocato dallo scoppio. Sul posto sono intervenuti per un sopralluogo anche il PM di turno, Bruno Fedeli e il procuratore aggiunto Walter Giovannini. Fiorenzo Romagnoli gestiva un negozio di biciclette nella vicina via Toscana e viveva da solo in un appartamento al primo piano della palazzina.